Ci saranno quattro nuove attività in centro storico, cinque le ditte che hanno presentato la documentazione per partecipare al bando all'interno dell'iniziativa Investo il Centro, ma una di queste non è stata ammessa al contributo. L'iniziativa di riqualificazione del centro storico puntava ad incentivare l'apertura di attività commerciali, artigianali, culturali e di somministrazione alimenti e bevande. Al fine, preferibilmente, si leggeva dello svolgimento di attività di diretta utilità per i turisti e visitatori della città. Le quattro ditte beneficiari verranno adesso contattate per la stipula della convenzione prevista, ottenendo dunque un contributo economico a fondo perduto per un importo massimo di 8.000 euro, coprendo fino al 60% delle spese sostenute che rientrano tra quelle indicate nel bando. Per l'iniziativa si prevedeva un importo massimo di 80.000 euro in totale. Le domande, infatti, potevano essere presentate ed eventualmente accolte fino all'esaurimento dell'importo. Per me un numero negativo sarebbe stato zero. Quattro per me è già un numero positivo perché sono quattro attività che daranno luce a questo centro storico. Significa quattro imprenditori che credono nella propria città, che lo avrebbero fatto anche indipendentemente da questo contributo. Ma l'idea che si possa accedere a un contributo per poter anche migliorare qualche aspetto di questo loro business, per noi diciamo che dimostriamo grande soddisfazione, ci complimentiamo anche con gli imprenditori. Quindi un'admaiora e con la speranza che possa essere da traino anche a future altre realtà. L'aggiunta è un programma, ovviamente, del futuro. Tutte le azioni che sta compiendo questa aggiunta sono frutto di un lavoro di divisione e quindi di coordinamento per il rilancio del centro storico, ma non solo.